Il doppio turno in casa ha portato solo un punto al Napoli che per rilanciarsi si affida i numeri da prima della classe in trasferta contro l'Empoli che nel girone di ritorno ha dimenticato come si vince l'ultimo successo dei Toscani 16 partite fa al Maradona. Spalletti per la prima volta a schiera Osimène e Mertens insieme dall'inizio. Palla lunga, il colpo di testa di Pinamonti che chiude a lato, libero di colpire, la indirizza male, troppo larga e mette fuori. Insigne si avvicina ai 16, cerca spazio, poi allarga per Fabian Colmancino, palla a lato con Vicario che può solo guardare. Apre a destra per Lozano, cross basso, Mertens la tocca a Vicario ma non basta e Napoli è davanti, segna Dries Mertens, minuto 44, 9 in campionato per Ciro Mertens. Napoli 1, Empoli 0, 146 gol con la maglia del Napoli che la sblocca nel momento di maggiore difficoltà. L'anticipo di Zambo Anghissà su Verre, spinge Zambo Anghissà, Insigne a sinistra riceve, incrocia il mancino e Napoli raddoppia. Lorenzo Insigne va in doppia cifra anche quest'anno per la quinta stagione di fila. 2 a 0 Napoli al Castellani, secondo gol su azione in campionato per il 24 e Napoli adesso più tranquillo. Malqui prova a farla passare, lo chiude bene Zurkowski dietro, Cacace, Bairami controlla, entra in area, Bairami palla che diventa buona per Henderson. Empoli che prova a rientrare in partita, la rete di Liam Henderson, 2 a 1 quando mancano 11 minuti al novantesimo. Torna a crederci anche Andrea Zoli, Mertens, sbaglia tutto, il pareggio di Pinamonti, clamoroso l'errore di Alex Mertens, segna Pinamonti, il gol più semplice forse della sua carriera e l'Empoli la pareggia, minuto 83, gli sbatte addosso il rinvio di Meret, pallone in porta, 2 a 2. Bairami, Napoli lunghissimo, prova ad approfittarne il 10 dell'Empoli che spinge a destra, il cross dentro ancora per Pinamonti, la ribalta l'Empoli con la doppietta di Andrea Pinamonti, stavolta il merito è tutto suo, davanti la squadra di Andrea Zoli, in 7 minuti, dallo 0 a 2 al 3 a 2.